Tutto è partito da una ragazzina subsahariana di 16 anni, sbarcata da Augusta due anni fa e ospitata in una struttura del Catanese. Era scappata più volte per fulgire oltre Alpe, affidandosi ad un uomo che le era stato indicato in Libia da una donna che si era presentata come la sorella. Quelle due persone erano solo una piccola parte di un'organizzazione con cellule in Africa, Italia e Francia, dedita al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, in grado di trasferire donne, uomini, bambini, persino neonati e come un'agenzia di viaggio, di fornire tutti i servizi per sconfinare, treni, auto, documenti falsi, green pass durante la pandemia, patenti di guida, vitto e alloggio. Almeno 200 euro per valicare i confini italiani, 1200 per le fasi più complicate, secondo quanto ricostruito dalla squadra mobile Etnea. Il numero è di centinaia di persone, dobbiamo dire che sono stati contestati dalla procura dell'Europa di Catania 70 capi di imputazione. Quando parli con un cliente devi per prima cosa farlo partire, dicevano i trafficanti, e solo dopo aver incastrato i migranti si pretendevano i soldi. Alle donne giudicate in base alla bellezza e al fisico venivano chieste prestazioni sessuali. 17 subsariani, per lo più guineani e ivoriani, fermati dalla polizia, su delega della direzione distrettuale antimafia. Altri otto sono ricercati. In Italia la struttura aveva tre sedi, una a Torino e due in Liguria. Alcuni degli indagati approfittavano del fatto di essere ospitati in centri di accoglienza per raccogliere informazioni, in gente il giro di denaro, in contanti, con sistemi basati sulla fiducia e con poste pay, con transazioni anche di 800 mila euro.